Il Comune deve a Varese Risorse 1.600.000 euro, anzi per l'esattezza 1.600.000 più IVA. Una somma ingente, piuttosto pesante, che per un Comune come Varese potrebbe anche provocare qualche problema. Ma è davvero così? Ecco un nuovo filone di inchiesta, targata Rete 55. Come nostro costume andremo a fare tutti gli approfondimenti del caso, cercando risposte e conferme. La vicenda ci riporta al 2013, allora il sindaco di Varese era Attilio Fontana. Il Comune nel 2013 si rende conto di un'urgenza, deve sostituire le caldaie in ben 26 edifici pubblici, in prevalenza scuole. E allora siede al tavolo con Varese Risorse e affida a Varese Risorse questo compito. Varese Risorse sostanzialmente che cosa farà? Sostituirà tutti gli impianti e poi li gestirà, manutenzione compresa, per 12 anni, quindi fino al 2025, il tutto per circa 2 milioni di euro. Poi cosa accade? Un privato fa ricorso mettendo in discussione la bontà di quell'affidamento. Un paio d'anni dopo un giudice decide che quel privato ha ragione e quindi blocca il contratto per non mettere in difficoltà lente. Cosa dice? Sostanzialmente dice chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, ma d'ora in avanti il Comune dovrà affidare ad altri quel servizio. Il Comune lo fa, si affida alla Consip, che è la centrale di committenza di rilievo nazionale, e il servizio viene gestito da altri, solo che Varese Risorse non gradisce e si può anche ben capire perché. La società infatti si è sobbarcata a investimenti importanti per sostituire tutti quegli impianti, nella convinzione di doversene occupare poi per 12 anni. Siccome però la partita è durata molto meno, torna dal Comune e dice Benissimo, chi è subentrato al mio posto ha avuto il beneficio degli impianti che ho sostituito io, degli investimenti che ho fatto io. Quindi adesso, caro Comune, mi devi 1.600.000 euro più IVA. Se è davvero così, cioè se Palazzo Estense è in debito o potrebbe trovarsi in debito con Varese Risorse per 1.600.000 euro, evidentemente bisogna trovarne traccia da qualche parte. E dove, se non nel bilancio, oggi abbiamo incontrato l'assessore alla partita, Cristina Buzzetti. Ecco come ci ha risposto. Però non mi ha detto se sono a bilancio quei milioni e sei. Certamente, credo. Certamente, credo. Risposta strana e sibillina. O certamente o credo. Probabilmente l'assessore Buzzetti non lo sa. Accanto a lei, come vedete, il sindaco Galimberti, che non lascia mai soli i suoi assessori. E chi di lì a poco ci dice, beh, andremo a controllare, a verificare. In ogni caso si tratta di una faccenda piuttosto complicata, articolata, che andrebbe meglio approfondita. Siamo convinti che abbia ragione ed è per questo che vogliamo approfondirla. All'assessore Buzzetti, però, diciamo, lei ha la delega al bilancio. 1.600.000 euro che il Comune rischia di dover sborzare. Non è proprio una partitina da niente. Non sono noccioline, quindi la voce dovrebbe, se non altro, essere ipoteticamente riportata. Ma, insomma, come possiamo avere tutte le conferme del caso? Un primo giro lo faremo già domani, andando in Comune. Ma questa volta non parleremo ai politici. Questa volta vogliamo parlare a un tecnico e a chi, se non l'avvocato Elio Carasi. Eccolo, Elio Carasi. Lui non è solo un avvocato, è una colonna palazzestense. Vogliamo parlare con lui perché lui, di fatto, c'è sempre stato. Lui era presente ai tempi del mandato Fontana e abbiamo qua una foto che è un po' una chicca e che ce lo ricorda. Eccola qui la foto. La foto lo ritrae insieme a Carlo Passer, che è il suo predecessore, quale vice segretario comunale, insieme ai esponenti della loro amministrazione. C'è Carlo Piatti, che era assessore alla sicurezza, c'è Sergio Ghiringhelli, che era assessore al commercio, e c'è Emiliano Bezzon, che è l'ex comandante dei vigili. Insomma, Carasi era ai vertici della macchina comunale quando c'era Attilio Fontana ed è ai vertici ancora oggi che c'è Davide Galimberti. Il vento politico è cambiato, ma lui resta ai vertici. Quindi è giusto, siccome è molto informato e anche molto competente, andare a interpellare proprio lui. Lo faremo domani. Siamo ansiosi di ascoltare la risposta.